Mi sono Omarek Suar sulle righe del fiume, dalla parte dell'isola, quello è il ponte che porta alla terraferma, queste sono le barchette che circonsolano, abbiamo già chiesto se volo fare un giro, non vado da nessuna parte, mi sono appena fatto una limonata, Siamo appena fatto una limonata e sento un sapore strano nell'acqua, nella bevanda, tipo fogna, roba del genere, e gli faccio ma da dove viene l'acqua che è aggiunto il limone e lo zucchero? Va dal fiume, ah grazie, quindi insomma se starò male sarà per quello, qui sopra una miriade di templi, uno sull'altro, molto carino, molto particolare, sono degli shop veramente interessanti e soprattutto la gente non insiste, non trompa, non chiede, se lo vuoi prendi, se no niente, E quindi niente, speriamo che non mi prenda la febbre a 50, anche perché sto per rientrare, presumibilmente appunto, vediamo un po' come andrà a finire.